La compagnia Opera Prima è una compagnia di latina e esiste da 15 anni e si occupa soprattutto di commedia dell'arte e di tutte quelle che sono le varie contaminazioni che la commedia dell'arte ha avuto con la ricerca teatrale del Novecento. Lo spettacolo in questione scelto per la manifestazione è Le tre mela arance, tratto dall'omonimo canovaccio di Carlo Gozzi, l'ultimo canovaccio reale di commedia dell'arte scritto in Italia. Principio, cercavate questo? O forse cercavate questo? All'interno di questo spettacolo mettiamo un po' tutto quello che è il percorso della nostra ricerca senza la maschera ma portandoci dietro il codice della maschera della commedia dell'arte. Grazie. 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 Grazie.